salve a tutti cortona wine style sabato 22 giugno mi raccomando organizziamo una cena con degustazione vini di cortona assaggeremo un po di tutto da bianchi rosati e rossi fino ad arrivare al re dei vini di cortona il sirà che devo dire io lo sto assaggiando proprio adesso ed è un vino eccezionale ricco di profumi colori intensi e sapori non sto a specificare tutto quanto perché vi voglio lasciare un po con la curiosità e quindi alla scena di sabato sinceramente è già il secondo bicchiere che mi sto assaggiando e non riesco a smettere veramente un vino eccezionale quindi ragazzi buon cortona a tutti ci vediamo sabato 22 giugno ciao ciao